a un po di calduccio dopo una giornata tremenda fatta al freddo e al gelo guarda salute o comunque dentro si mettemmo perchè il fuori non esiste no no dentro è come se fossi stato fuori piuttosto detto si questo menù qui no meglio poi ordino io non starci per favore e poi lavoriamo qua quindi non so se ci abbiamo dello sconto c'è anche lo sconto tu paghi solo un panino a parte? no, io volevo non lo stavo ah, e lo sconto dipendente di lavorare alla Passweb esatto, perché fai così? davanti al bag io ho detto grande, quindi grande ok, ben fai bene eccolo qua allora voglio lo sconto c'è qualcosa? faccio scritto qua se vuoi stare davanti al bag tanto la postazione quando c'è bisogno di fare l'involuzione e attenzione e attenzione e attenzione e attenzione e attenzione e lo dici per cento grazie eh, me l'hai detto pure prima io pensavo che te la colopata per ti per bicchieri se non l'ho mai visto e non l'hai detto mazzì mi dovranno fare i capelli più cari è un marzoni 16 euro taglio uomo eh manco tanto aprili a due 24 euro vogliono no, questi sono tre pezzi di di mano ma questi sono tre sicuramente manca l'altro pacchettino da tre no, io ho chiesto tre pezzi per due ma qui sapete e ho tirati due da tre Sì, mi rimarca 1, 2, 3. Io lo faccio subito. Dipendenti? Sì, grazie. No, aspetta che mi sono sbagliato. Puoi inserire la caccia? Ah, ok. Ok, prego ragazzi. Menù? Ritiri te. Ti ho tutto io. Eh, bravo. Che devo piacere? E devi piacere quello che ti dà. Sale? No, fresh up, prendi. Che so, ah, è sal 10. Sì, vieni 3, 4. L'utile aspetta. Il sale? Noi faccio l'aranciata. Eh? Faccio l'aranciata. L'aranciata illimitata. Ecco qua. Questo si dovrebbe essere il mio, penso. Tutto buono. E quella cosa con tutto bollo. E come lo mangio? Ciamolo di un mano. Come gli antichi venti. Nel cioccolò tutto. Ah, bollente. Mmm. Come beh. Buono. Molto. Non ho capito perché le tovagliette. Cosa? Non ho capito perché le tovagliette. Cioè. Oh. Vedi le salpettine. Fighe. Buona la salsa barbecue. Bello. È fresco, lo sai. È bello fresco. Io ti ho messo il bassoio apposta. Ah, mio? Eh sì. E penso che queste salpettine ti salveranno la vita, lo sai. È lungo sì. Bélui. Inforatro, potenzii. Ma hai. Mi unerlo? Norni. Perdi? È masculino? Irrame. Ma lei! Due a cheesco. È un paese. è un paese. Ma lei lo è?